Dopo rinvii ritardi e marcio indietro sono partiti i lavori nell'immenso spazio del parco della Marinella in via Vespucci che finalmente prende forma. Si vedono i primi risultati, commenta soddisfatto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. L'aria si candida a diventare il polmone verde della città, una zona che è stata finora preda del degrado, invasa da ratti, erbacce, rifiuti speciali, laterizzi, copertoni e incondizioni sanitarie disumane. Ci vivevano fino alla scorsa estate diversi clashard in baracche di lamiera poi rimosse. L'idea è quella di trasformare un luogo di degrado in un parco a misura di bambino, a due passi dalla stazione Garibaldi, nel cuore di via Marina. Il parco sarà recintato e video sorvegliato, avrà fontane aiole verdi, alberi di olivi e di agrumi. La nuova area verde sarà compresa tra il bastione del Carmine, l'ex caserma di cavalleria, il mercato ittico e le case popolari. Una scommessa da vincere questa volta. Ma intanto non c'è pace in piazza Garibaldi, l'agora a biglietto da visita della città e in preda all'incuria al degrado. Dopo oltre un anno dall'inaugurazione in Pompamagna, il restyling costato milioni, nella piazza della stazione centrale ci sono aiuole incolte, sporcizia, oggetti abbandonati dai clashard, transenne intorno ai pali. La recensione del campo da basket intanto è stata sventrata.